Silvio De Angelis, commerciante, legge un articolo della Costituzione italiana per Spoleto City. Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Silvio, lo vuoi commentare questo articolo? No, c'è poco da commentare perché chi ha più deve pagare di più, chi ha meno pagata meno. Se tutti pagano, tutti pagamo di meno. Autorizzi questo video per Spoleto City? Ma senz'altro.